Per interoperabilità Linux-Windows intendo che i due sistemi possono convivere in vari modi. Nel medesimo computer o in computer differenti. Vediamo alcune delle modalità più diffuse per l'integrazione tra i due sistemi e come si prestano a seconda delle esigenze. Ciao, da Dario di Alternativa Linux. Quando ti avvicini a Linux dopo anni di abitudine a Windows, non sempre è facile o possibile fare un salto netto, cioè lasciarsi del tutto alle spalle il sistema operativo Microsoft. Sorge quindi l'esigenza di affrontare l'utilizzo di due sistemi operativi così diversi permettendo una facile interazione tra di loro. Per fortuna, grazie alla proverbiale flessibilità di Linux, ci sono tante strade per far convivere o mettere in comunicazione i due sistemi operativi. La modalità più diffusa per la convivenza e l'interoperabilità tra Windows e Linux nello stesso computer è il dual boot. Doppio avvio. Durante l'installazione Linux trova Windows e offre un'opzione per affiancarvisi nel medesimo hard disk. Predispone poi un menu per scegliere, all'accensione del PC, il sistema operativo con cui avviarlo. Facile e a prova di principiante se conosci già i concetti che ho presentato in preinstallazione di Linux. Avvii la chiavetta USB con Linux, provi che tutto funzioni grazie all'utilizzo in modalità live e avvii l'installazione. Puoi seguire la semplicissima procedura automatica descritta in Come installare Linux Mint in modo facile o fare riferimento a Come installare Linux Mint con partizioni manuali per un controllo più preciso sull'organizzazione dell'hard disk. I sistemi operativi si trovano così fisicamente separati ed autonomi nel medesimo hard disk in cui operano alternativamente. Con un dual boot puoi accedere da Linux alle partizioni NTFS tipiche di Windows mentre il sistema Microsoft non è in uso. Puoi navigarne il contenuto, copiare, spostare, modificare file o cartelle o aggiungerne. Non serve installare alcun nuovo programma o configurare alcun che per poterlo fare. Windows invece non supporta nativamente il formato EXT4 tipico di moderni sistemi Linux. Non è quindi in grado di accedere al contenuto di partizioni Linux nello stesso hard disk. Per farlo però puoi usare il software per Windows Linux Reader di Disk Internals. Con la versione gratuita puoi montare, cioè avviare, la partizione EXT4 di Linux, ispezionare cartelle, vedere dettagli e anteprime dei file multimediali. Puoi anche esportare file e intere cartelle per salvarle all'interno di Windows. Ma non puoi modificare né aggiungere file o cartelle perché l'accesso di Linux Reader alle partizioni Linux può avvenire in sola lettura. In programmi Windows e Linux Mint e Ubuntu con Wine ho parlato di questo cosiddetto livello di astrazione che permette di eseguire in ambiente Linux alcuni semplici software .exe per Windows. Il riscontro che ho ottenuto nel tempo sul tutorial nel blog e sul corrispondente video YouTube mi dimostra il grande interesse che questa possibilità suscita negli utenti meno propensi ad abbandonare del tutto Windows. Io però non sono assolutamente un fan di questa soluzione. E penso sia la peggiore delle soluzioni proposte in questo video. Ricordo che anche io, quando cercavo di lasciare Windows, mi ostinavo ad installare programmi fin troppo complessi per questa soluzione. Strumenti di lavoro quotidiani che ritenevo insostituibili. Alcuni si installavano ma non si avviavano. Per altri scoprivo sistematicamente alcune funzioni che non andavano o che mandavano in crash il programma. E visto che non mi stavo divertendo a fare test ma si trattava di strumenti di lavoro ho perso tempo. Ho desistito presto e invece che perderlo il tempo l'ho investito per imparare ad usare programmi alternativi ed open source. Programmi che oggi sono i miei strumenti di lavoro. Ed oggi userei questi stessi programmi anche se dovessi farlo con Windows. Wine può andare bene per programmi assai semplici. I programmi Play on Linux e Bottles cercano di semplificare il lavoro di modifica delle configurazioni di Wine e adottano altri espedienti per migliorare la fruibilità di software per Windows in ambito Linux. In ambito gaming ci pensano anche ProtonDB con la funzione Steam Play e l'Utris, utili ad attirare utenti Windows in uno dei settori che gli consente di tenersi stretti ancora tanti videogiocatori. E malgrado i titoli disponibili per Linux e in Steam siano in costante aumento, leggo che ci riescono bene anche con quelli che non sono previsti nativamente anche per Linux. A chi si ostina ancora a portare software troppo complesso per Windows in Linux, ho sempre suggerito di mantenere un dual boot perché è la soluzione più semplice che consente di non perdere tempo. Oppure anche la virtualizzazione del sistema operativo. Accenno ad essa più avanti e sarà comunque oggetto del prossimo video. Se adoperi un servizio di archiviazione nel cloud o anche se non ci hai ancora pensato, questa è una delle soluzioni che ti consente di condividere file e cartelle su molteplici PC con Windows, Linux, macOS e dispositivi mobili Android e iOS. Dropbox e Google Drive sono i servizi più semplici da integrare in Linux, specie in Linux Mint o Ubuntu e sue derivate con il desktop GNOME. Per Dropbox che si installa con un click da gestore applicazioni, Linux Mint Cinnamon posiziona un'icona nello spazio delle applet. Una estensione del file manager Nemo consente operazioni di spostamento ed eliminazione e si occupa inoltre di sincronizzare all'istante qualunque modifica effettuata a file presenti all'interno della cartella Dropbox nella Home. Anche l'integrazione di Google Drive o Google One è cosa semplice in Linux Mint. Tramite l'applicazione Account Online puoi infatti condividere e sincronizzare contenuti dallo spazio cloud di Google all'interno del file manager, senza alcuna configurazione. Sincronizzare con Linux cartelle di Microsoft OneDrive ad oggi risulta invece un po' più complicato. Uno strumento gratuito OneDrive Free Client non ufficiale prevede solo l'utilizzo da riga di comando. Altre ingegnose soluzioni Linux si basano sulla clonazione delle cartelle remote di OneDrive, ma non sono alla portata di tutti. Il metodo forse più semplice per integrare in Linux tramite applicazioni dotate di finestre i contenuti di Microsoft OneDrive è OneDriver. Si tratta di un progetto personale di uno tra i tantissimi generosi programmatori della comunità Linux. OneDriver in effetti non realizza una vera sincronizzazione, ma scarica singolarmente i file quando li apri per consultarli o modificarli. Al salvataggio li invia di nuovo nel cloud Microsoft. Se non sei connesso ad internet però solo i file già scaricati possono essere aperti, ma non possono essere modificati finché non sei di nuovo connesso. Parlo nel dettaglio di Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive e relativa integrazione in Linux Mint nel mio ebook Linux Mint in ufficio di prossima pubblicazione. Un NAS, Network Attached Storage, cioè dispositivo di archiviazione di rete, è una soluzione non sempre economica ma assai seria per mantenere in sicurezza i propri dati e condividerli su più dispositivi, non solo all'interno della rete locale ma anche via internet. Prodotti hardware come quelli QNAP e Synology comprendono anche il software e spianano la strada a chi deve configurarli ed utilizzarli. Ma esistono anche soluzioni software, open source, che sfruttano i medesimi meccanismi e possono essere configurate anche in hardware non ottimizzato allo scopo. La più basilare ma semplice da implementare per un inesperto è forse Open Media Vault, un sistema operativo completo basato su Debian, ottimizzato con molti servizi essenziali tipici delle soluzioni di archiviazione, già pronto alla configurazione attraverso il browser a fine installazione. In rete si trovano guide e video in italiano per allestire e configurare un NAS domestico o per un piccolo ufficio con Open Media Vault. Forse più noto ma assai più completo e professionale è True NAS, precedentemente noto come Free NAS. Viene da iX Systems, azienda americana che propone hardware e software dedicati ad assistenza per aziende di grandi dimensioni. True NAS Core è la versione gratuita di base del sistema operativo open source. E' basato su FreeBSD e sul suo potentissimo e performante file system ZFS. Oltre alla completa ed aggiornata documentazione ufficiale in inglese di True NAS, in rete si trovano alcune sintetiche guide tradotte anche in italiano. Diverso è il discorso di condivisione di contenuti tra PC differenti dotati di Windows e Linux, anche senza ricorrere a servizi cloud o a sistemi di storage. Nel video Linux Mint nelle cartelle di rete condivise da Windows spiego come condividere in rete locale cartelle di Windows e come accedervi da una postazione Linux. Nel video Condividere cartelle Linux in rete locale ho invece descritto le modalità per condividere file e cartelle di un computer con Linux Mint e renderle disponibili da altre postazioni Linux, da computer con Windows o Mac OS e da dispositivi Android e iOS. In entrambi i casi si realizza una completa condivisione dei contenuti che risultano accessibili e volendo modificabili da tutti i dispositivi connessi in quel momento alla stessa rete locale. Se hai molteplici computer connessi alla stessa rete ma il tuo scopo è la condivisione istantanea di singoli e specifici file, puoi fare a meno delle configurazioni richieste per le condivisioni in rete locale. In questi casi puoi ricorrere ad un meccanismo di semplice ma efficace invio di file da una postazione ad un'altra. Specie se usi Linux Mint sei avvantaggiato perché tra le sue app ufficiali preinstallate c'è Warpinator, programma di invio file tra postazioni in rete locale che non richiede alcuna configurazione. Niente cartelle condivise, impostazioni di permessi e gruppi o altro. La sola connessione al medesimo router o persino all'hotspot dello smartphone di più postazioni Linux dotate di Warpinator consente loro di individuarsi e riconoscersi. E l'invio e la condivisione di file di ogni genere tra di esse è immediata. Ovviamente solo i dispositivi coinvolti nello scambio hanno accesso al contenuto perché i dati sono trasmessi in forma criptografata dopo le autorizzazioni alla ricezione. Warpinator funziona ovviamente senza alcuna installazione o configurazione tra postazioni Linux Mint connesse alla stessa rete. Ma non è tutto. Anche altre distribuzioni GNU Linux apprezzano Warpinator e lo rendono disponibile per l'installazione dai rispettivi centri software. Inoltre di Warpinator esiste una versione per Windows che consente l'integrazione di postazioni Microsoft nel servizio. Winpinator. Non è realizzata dal team di Linux Mint ma è stata salutata con entusiasmo da parte del team stesso. Lo stesso entusiasmo è stato manifestato dal fondatore del progetto Linux Mint per Warpinator per Android. Anche essa applicazione non ufficiale è disponibile nel Play Store di Google e permette invio e ricezione di file tra PC, smartphone e tablet Android. Alla data di pubblicazione del video fa progressi anche lo sviluppo della versione beta di Warpinator per iOS, che è quindi ipotizzabile sarà presto disponibile nell'App Store Apple. Questa consentirà l'integrazione nel gruppo locale di Warpinator anche dei dispositivi con la mela. Anche il mio ebook Linux Mint 21.1 manuale d'uso ovviamente tratta questo e tanti altri argomenti di cui non ho scritto ne parlato altrove. Un modo per provare Linux senza lasciare Windows è quello di installarlo come programma all'interno del sistema operativo Microsoft. Le possibilità sono molteplici, ma molti utenti che si avvicinano a Linux lo fanno per allontanarsi quanto più possibile da Windows. Le presento per dovere di completezza ma non ritengo siano le più consigliabili. Anzitutto va citata l'apertura di Microsoft all'open source che ha prodotto il sottosistema Windows per Linux WSL . Nelle pagine ufficiali sull'installazione di WSL Microsoft chiarisce. Il sottosistema Windows per Linux consente agli sviluppatori di installare una distribuzione Linux ad esempio Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux e così via, e di usare applicazioni, utilità e strumenti da riga di comando Bash direttamente in Windows non modificato senza il sovraccarico di una macchina virtuale tradizionale o di una configurazione dual boot. Puoi installare WSL dal Microsoft Store, oppure da attiva o disattiva funzionalità di Windows. WSL aggiunge al programma Esplora Risorse una nuova icona con il pinguino. Purtroppo cliccarci non produce alcun effetto in un dual boot. Non puoi vedere il contenuto della partizione Linux nello stesso disco. E questo a causa del fatto che è prima necessario identificare dischi e partizioni per poi montarle manualmente da riga di comando tramite Windows PowerShell. Anche la soluzione Wubi sotto certi aspetti non si discosta molto dall'installazione di una distribuzione Linux dall'App Store Microsoft. Wubi permetteva agli utenti di Ubuntu di installare il sistema operativo Ubuntu completo con una un'utilità per ambiente Windows. Il progetto, abbandonato ufficialmente da Ubuntu oltre dieci anni fa, è stato ripreso con Wubi UEFI. Sembra una figata, ma è improprio parlare di dual boot. Perché Linux viene illuso di funzionare in una apposita partizione, ma sta operando in effetti in un file gestito interamente da Windows. Un altro modo per provare una distribuzione Linux senza riservargli un hard disk o una partizione è tramite virtualizzazione. Il celebre programma VirtualBox, tra tanti altri, permette di configurare un computer virtuale nel computer, riservandogli parte delle risorse in termini di memoria RAM, spazio su disco, capacità di calcolo e tante altre caratteristiche tecniche. Ovviamente la virtualizzazione richiede che tu abbia un gran bel computer recente per far girare contemporaneamente due sistemi operativi con risorse adeguate. Ma in questa scatola virtuale si può installare qualunque sistema operativo. Installare in VirtualBox un sistema operativo è piuttosto semplice. Per diverse famiglie di sistemi operativi una parte delle impostazioni richieste è preconfigurata, anche se talvolta possono servire modifiche. Ma se si tratta di una distribuzione Linux ancora di più? Il sito web osboxes.org mantiene un archivio abbastanza aggiornato di macchine virtuali già pronte con distribuzioni GNU Linux di ogni genere, pronte per essere scaricate ed importate come immagine di disco virtuale in VirtualBox saltando ogni configurazione. Analizzate alcune delle possibilità di installazione di sistemi Linux partendo da Windows, permettimi di esprimere brevi considerazioni personali. Chiunque abbia già abbracciato la causa Linux ti direbbe che installare Linux con VSL, con Vubi o virtualizzandolo può soddisfare una improvvisa curiosità. Ma è un controsenso a lungo termine, perché di fatto sottoponi un sistema operativo libero, trasparente, gratuito al controllo di uno proprietario dai meccanismi non trasparenti che guadagna molto più del costo di una licenza dalle informazioni su tutto ciò che fai con il tuo PC. Insomma, con queste soluzioni puoi persino smettere di usare Windows. Ma Microsoft non smette di usare te, anche quando usi Linux. Non è il massimo, almeno per l'utente intendo. Per Microsoft certo che è il massimo. Non servono strumenti per il controllo del traffico di rete né gridare allo scandalo una volta scoperto che escono di continue informazioni indecifrabili dal tuo PC Windows. Non è un mistero che le cose stiano così. Se sei un utente di Windows hai accettato di usarlo consentendo a Microsoft di raccogliere, diventare proprietaria di queste informazioni e di poterle anche rivendere ad altri quando hai firmato il contratto. Sì, giuridicamente hai proprio firmato un contratto anche se l'hai fatto senza leggere. Non è vero che fanno tutti così con qualunque software o app. Perlomeno non io. Spero tu non debba mai pentirti delle volte che hai ceduto pezzi della tua vita ad aziende che li raccolgono, li danno ad intelligenze artificiali per analizzarli, imparare tutto di te e rivenderli pure. Perché, come dice Edward Snowden nel suo libro Permanent Record, non saranno davvero mai eliminati. Se hai un solo PC, vuoi usare Linux, ma sostieni di non poter fare a meno di Windows o qualche suo programma e non vuoi una apposita partizione in cui mantenerlo, allora ti suggerisco di installare Windows come programma all'interno di Linux. Sempre con un VirtualBox o altro programma che consenta la virtualizzazione e l'allestimento di un computer nel computer. Puoi isolarlo dalla rete privandolo della scheda o connetterlo ad internet senza farlo entrare in contatto con la tua vita Linux. Ma ovviamente potresti averne bisogno per condividere file tra Windows e Linux. E allora ci sono diversi modi per ottenere il risultato con pochi sforzi. Anche privando permanentemente la macchina virtuale Windows di connettività. Come ho detto poc'anzi, devi verificare requisiti hardware di entrambi i sistemi operativi in termini di spazio, processore e memoria RAM e sommarli. Cioè devi avere un PC con caratteristiche tecniche tali da consentire non ad uno alla volta degli OS di funzionare bene, ma contemporaneamente. Serve quindi un PC nuovo, con SSD, multi-core nel processore e direi con un minimo di 16 GB di RAM. Oppure lascia stare e scegli il dual boot perché l'esperienza sarà frustrante. Affronto compiutamente il tema nel prossimo video che pubblicherò. Questa carrellata di possibilità di interazione tra Windows e Linux riunite in un unico video mi ha dato spunto per citare informazioni già trattate. Come anticipato, per non appesantire questo video, affronterò nel prossimo le modalità di installazione di Windows in VirtualBox all'interno di Linux. E più che altro le possibilità per condividere contenuti tra i due sistemi in esecuzione con il massimo delle cautele in il tema di privacy e sicurezza. Grazie per l'interessamento al video e per il tuo tempo e a presto.